Io ti ringrazio per questo senso che resta tra noi, io benedico e faccio di che adesso va con Lui. Ora capisco che in vita tre giorni pensabili da Lui e ogni figlio dell'uomo che ama ti prego così. Lui e ogni figlio. Lui e ogni figlio. Lui e ogni figlio. Lui e ogni figlio. Ave Maria. Ave Maria.